La Software Factory, una visione moderna per la produzione di software nel XXI secolo. Ciao, io sono Michele e se tu sei la guida di un dipartimento software che funziona ma senti che potrebbe fare di più, allora non vedo l'ora di essere il tuo coach. Cominciamo! Con il termine Software Factory voglio intendere, voglio creare una sorta di definizione, di termine contenitore in cui vado a raccogliere tutte quelle che sono le best practice che negli anni ho avuto modo di applicare direttamente o ho visto applicate di prima mano. Il termine Software Factory, il mio amico Fabrizio mi dice che andava molto di moda all'inizio degli anni 2000, io non lo sapevo, ero ancora troppo giovane, ma in questo caso gli voglio dare una mia interpretazione. Vi ho dato quindi una definizione, così ci mettiamo d'accordo su cosa intendo per Software Factory, che ti voglio raccontare e andiamo a esaminare punto per punto. Una Software Factory è un'azienda che per raggiungere i suoi obiettivi di business sviluppa software proprietario in modo sostenibile nel lungo termine, che investe nelle persone, nei processi e negli strumenti. Per Software proprietario intendo quindi un'azienda che scrive software di proprio pugno, quindi qui si escludono dalla definizione tutte quelle che sono quelle aziende che si lavorano con il software ma magari semplicemente lo installano o installano software costruito da altri oppure lo configurano, sono dei configuratori di sistemi complessi come un SAP e così via. Per quanto riguarda invece la sostenibilità, non intendo parlare di sostenibilità in termini di inquinamento, riscaldamento globale e così via. C'è già chi se ne occupa o magari, anzi, ho fatto una diretta tempo fa sul mio canale sul Sustainable Software Engineering che ti invito ad andare a vedere, ma intendo in maniera sostenibile, cioè con un ritmo di lavoro sostenibile nel lungo termine soprattutto per quanto riguarda il benessere delle persone. Perché spesso nell'ambito IT, come molto probabilmente in altri ambiti, ma io quelli non li conosco, in ambito IT si ricorrono a orari extra per fare le release, si fanno atti eroici, insomma. Qui la mia idea è quella di concentrarsi in un business che possa fare le cose in maniera sostenibile e non affrontare tutte le decisioni aziendali come se fosse una corsa di 100 metri ma pianificare anche nel medio e nel lungo termine. Per quanto riguarda invece il termine persone, quindi una software factory, un'azienda che investe nelle persone, perché ovviamente le aziende sono fatte di persone, sono la risorsa numero uno in ogni realtà aziendale. Quindi vanno tenute in considerazione le ambizioni di formazione, di carriera, stimoli professionali, senso di appartenenza e così via. Sono tutte tematiche che non vanno lasciate al caso e che sono fondamentali per mantenere persone motivate e quindi una software factory funzionante. I processi sono l'insieme di, diciamo così, regole che governano l'interagire, il modo con cui le persone lavorano. Quindi le persone hanno bisogno di essere inserite all'interno di processi che permettano loro di dare il meglio senza però costringerli in termini proprio di costrizioni o burocratiche o di non andare fuori, di non pensare fuori dagli schemi e così via. Quindi la sfida risiede nel creare un ambiente che sia dei processi che siano ben strutturati ma che non siano allo stesso tempo invasivi, che non ingessino la quotidianità delle persone ma anzi ne promuovano la creatività. Infine abbiamo gli strumenti. Le persone inserite nei corretti processi hanno bisogno di lavorare di strumenti. Capita nel mondo IT che si parte dal contrario, cioè per un motivo o per un altro ci si può sentir parlare o innamorare di uno strumento che magari non fa il caso nostro che non sappiamo ancora maneggiare o che non abbiamo ancora compreso a fondo però si cerca di costringerlo, di adottarlo a forza in un contesto che non è appropriato. Quindi invece gli strumenti sono adozioni tecnologiche, sono strumenti che dobbiamo utilizzare, che dobbiamo conoscere bene e devono essere sempre al servizio del business e mai il viceversa. Tuttavia rimanere aggiornati su quelli che sono gli strumenti più recenti è comunque una buona cosa per dirla in maniera semplice perché ci sono con le tecnologie più recenti magari ci si sbloccano delle possibilità che prima era molto più fatica a fare o era un appannaggio di pochi. Per mantenere le buone tradizioni, chi mi segue da un pochino lo sa che mi piacciono i disegnetti ho provato a fare uno schema di quello che, di come mi immagino io, una software factory moderna. Quindi abbiamo che, va bene, questo è il nostro stabilimento produttivo. Mi piace sempre fare i confronti, i riferimenti con quello che è il mondo manufatturiero dove, alzo un pochino, vabbè poi scorrerò, ecco proviamo a fare così, dove al nostro interno accadono tante cose, ci sono tante persone. Ovviamente in un contesto del software non avremo ciminiere che fanno fumo, avremo solo i cervelli delle persone magari che fanno fumo e che cosa facciamo? All'interno di una software factory convertiamo quelle che sono idee di business, requisiti, esperimenti in valore, si spera, per gli utenti finali tramite la creazione di applicazioni, siti web, in generale, tutto quello che è fruibile appunto in forma di software. All'interno della software factory abbiamo, appunto in base poi alle dimensioni, o sì, se parliamo di una piccola, media, una grande azienda, un enterprise a livello mondiale, insomma, a seconda del contesto possiamo trovare un po', un bel po' di dipartimenti, un bel po' di persone, tante cose. Qui parto da in alto, mi piace il laser, parto da in alto e prendo, diciamo, quello che è la leadership, tutti quelli che sono i vari CEO, i CMO, il CTO e così via, sono tutti i senior leader, il senior management responsabile dei vari dipartimenti, quindi c'è l'amministratore delegato, il CTO, il responsabile, il direttore tecnico di tutto quello che avviene all'interno della software factory, eccetera, eccetera. Abbiamo il dipartimento legal, abbiamo HR, marketing, finance, gli esperti di sicurezza e così via. In particolare, poi, mi piace concentrarmi su quello che è il vero cuore pulsante di una software factory, cioè dove avviene la creazione e la costruzione del software. Per come io me la immagino all'interno di una software factory, più o meno grande che sia, dobbiamo avere dei team, i cosiddetti cross funzionali, cioè il cui personale all'interno di questi team non è estremamente specializzato in un ambito, ma sono persone con capacità abbastanza orizzontali. Ovvio che potremmo trovare la specializzazione, che ne so, in un frontend, in una determinata tecnologia di database e così via, ma in linea generale si deve cercare di costruire dei team dove tutte le competenze richieste siano all'interno del team stesso invece che andare a cercarle e a pescarle al di fuori. In questa maniera andiamo a ridurre le dipendenze tra i team. Un team di questo tipo è responsabile di ciò che produce dall'inizio alla fine, quindi dalla raccolta dei requisiti, lavorando in collaborazione con PO e eventualmente un PM che gestisce l'attività contemporanea di vari PO e team cross funzionali, insieme tutti questi team coordinati e supportati eventualmente se esiste da un team di SRE vanno a rilasciare valore in produzione di cui ne sono responsabili fino alla fine. Come potete vedere non c'è una forte divisione in questo mio immaginario tra dev e ops, ma è tutto chiamato in generale come engineering team. Infine all'interno di una software factory ovviamente ci sono tantissimi asset e risorse aziendali che i team, le persone vanno ad utilizzare e di cui c'è bisogno per il funzionamento della software factory stessa. Quindi abbiamo ovviamente l'hardware, licenze software, pipeline, infrastruttura, risorse cloud, librerie di terze parti, repository, insomma tutto quello che serve per una vera e propria produzione di software. Per il concetto di software factory oggi ci fermiamo qui ma ci tornerò sicuramente andando ad indagare tutti quelli che sono i dipartimenti e le pratiche di cosa accade in ogni sezione della software factory nei prossimi video. Mi raccomando se invece da questo video hai imparato qualcosa oppure ti è piaciuto metti un mi piace e iscriviti al canale per rimanere aggiornato sulle prossime uscite. Ciao!